Abbiamo visto oggi che il settore idrico è atteso da importantissime sfide nei prossimi anni, nei prossimi decenni, sfide che provengono da fatti esterni come i cambiamenti climatici che mettono a rischio e rendono più vulnerabili i nostri sistemi, ma vengono anche da direttive europee che sono sempre più esigenti e ambiziosi nel richiederci livelli di servizio sempre più elevati per i cittadini, ma anche sempre più attenti all'equilibrio ambientale, all'equilibrio ecologico e così via. Tutto questo richiede, una volta c'era una pubblicità, mi ricordo, devo dipingere una parete grande, ci vuole un pennello grande, questo invece andava in giro con un mastodonte di pennello e il vice disseva che non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Non ci vogliono aziende grandi, ma ci vogliono grandi aziende, nel senso aziende industriali capaci di rapportarsi al mercato, capaci di entrare in una logica di collaborazione con le altre aziende quando serve, capaci di raccogliere le risorse che servono sul mercato finanziario e di ripagarle puntualmente, aziende capaci di far crescere, l'ho visto con molto piacere oggi, il loro personale, il loro staff, facendolo diventare davvero protagonista della fornitura di questi servizi. Bravo CAF, sono molto contento di essere stato qui oggi e di aver condiviso con voi questa giornata.